In attesa che la Regione Abruzzo riorganizzi la sanità regionale, si punta a un ospedale di base qui al San Massimo di Penne. Un'altra eccellenza spicca nell'ospedale dell'area vestina è quella del reparto di medicina in dei hospital del dottor Dante Orlando e Giuliano Delle Monache che negli scorsi giorni hanno attivato una collaborazione con lo Policlinico Gemelli di Roma per quanto riguardano i pazienti destinati a trapianto di fegato. Abbiamo coltivato in particolare da molti anni a questa parte una particolare attenzione alle malattie di fegato in tutte le loro manifestazioni e in particolare abbiamo avviato da qualche tempo questa collaborazione anche grazie a una convenzione stipulata a suo tempo dalla Regione Abruzzo con il Policlinico Gemelli che ci permette di fare un passo in più cioè di arrivare anche ad avviare i pazienti che non possono più soffrire di terapie più conservative anche al trapianto di fegato in condizioni di collaborazione direi ottimale e colgo questa occasione anche per ringraziarli pubblicamente. In più noi cerchiamo di offrire un servizio diciamo all'altezza delle conoscenze mediche migliori attuali aperto anche al territorio extra Asle di Pescara, extra area vestina e in questo abbiamo degli ottimi riscontri abbiamo avuto perfino pazienti che si sono fidati di noi pur provenendo dalla celebratissima Regione Lombardia. Non posso ringraziare ulteriormente i medici della medicina dell'ospedale di Penne. Trattano anche dei noduli epatici quali i pazienti che non deve essere operato vanno la dermoablazione da 20 anni con un spirito di umanità verso questi pazienti facendo anche oltre l'orario se li chiamo le persone che hanno bisogno sono sempre loro disponibili sia al posto operatorio ma soprattutto anche in questa eccellenza che loro fanno in Abruzzo che forse è l'unica sede delle dermoablazioni per questi noduli.